Ciao, vuoi scoprire come i migliori batteristi al mondo hanno reso unici e imperdibili i dischi che hanno fatto la storia della musica? Ti interessa scoprire quali sono le 5 big drummers ideas che hanno reso speciali questi dischi e che cosa hanno suonato e perché? Io sono Ruggero, il fondatore di The Drum Booster e sono felice e onorato di averti qui a questa serie di video che ho intitolato Note dal batterista. Ti parlerò delle 5 big drummers ideas ovvero come un batterista magico rende speciale un album. Ti farò fare un viaggio nel mondo della grande musica che mi ha influenzato e ti farò conoscere cose di cui tu probabilmente non sei a conoscenza per svariati motivi. Il mio messaggio con questo lavoro è quello che se vuoi crescere devi conoscere la storia che hanno fatto i grandi musicisti. Vedi quando io ho cominciato a scoprire questi big drummers e questi grandi musicisti tutto il mio modo di vedere la musica e il mio strumento è totalmente cambiato. Ho capito come loro e i dischi in cui hanno lasciato un'impronta indelebile sarebbero stati per me una fonte inesauribile di ispirazione. Ho capito soprattutto che ascoltando le loro registrazioni avrei potuto fare a meno dei libri, dei metodi didattici perché la magia è nelle registrazioni e non c'è sulla carta. La magia la devi percepire con le orecchie e con il cuore. Non puoi leggerla. Vedi anch'io all'inizio tantissime cose di quelle che facevano questi grandi maestri proprio non le capivo. Non mi arrivavano. E sai perché? Perché faceva parte del percorso che io e te dobbiamo affrontare per crescere sia come musicisti che come persone. Dobbiamo evolverci come qualsiasi forma di vita. Quindi se all'inizio la magia non ti arriva non preoccuparti. Insisti e vedrai che arriverà. Il mio intento oggi è quello di fare ciò che i grandi musicisti che ho avuto l'onore e la fortuna di frequentare tanti anni fa mi hanno trasmesso. Voglio aiutarti a capire con l'ascolto e con l'analisi ciò che rende speciali e unici questi grandi album. Voglio trasmetterti la capacità di capire la differenza che c'è fra la magia di un musicista speciale e la freddezza della musica programmata al computer. Te lo sto dicendo perché magari sei parte di quelle generazioni, le ultime, che sono cresciuti con la musica programmata e quantizzata. Questo tipo di musica, quella programmata e quantizzata, non ha nessun tipo di magia perché manca l'anima che trasmette un musicista speciale quando suona. I sequencer e i computer hanno dato tantissimo alla musica. Soprattutto hanno facilitato e accelerato il processo produttivo. C'è però anche il rovescio della medaglia. L'uso sconsiderato della tecnologia ha tolto l'anima alle produzioni musicali che ne facevano appunto un largo uso. Questo tipo di musica ovviamente non è naturale, è fatto dalle macchine. Possiamo anche aggiungere che questo modo di fare musica è diventato a sua volta uno stile a sé e noi musicisti dobbiamo imparare a conviverci nel miglior modo possibile. Ciò non toglie che quello che scoprirai in questa serie ti farà capire chiaramente qual è la differenza. Poi se ti piace la musica programmata non c'è nessun problema. Non sto dicendo che ascoltarla ti potrà far male o ti renderà stupido. Voglio solamente dirti che esiste un altro mondo, un altro modo di fare musica che potrebbe appassionarti tanto quanto quello programmato per esempio. Quindi per scoprirlo ti basterà seguire questa serie di appuntamenti e poi andare su Spotify o meglio ancora acquistare il cd o il vinile dell'album che ti propongo in modo da poterlo ascoltare tutte le volte che vorrai. Infatti i dischi hanno questa strana caratteristica. È vero sono immutabili perché sono una registrazione ma ogni volta che lo ascolti ci troverai qualcosa di diverso e sai perché? Perché siamo noi che cambiamo. Cd è sempre quello. Vedi noi non siamo mai uguali a noi stessi. Ogni momento che passa mutiamo, cambiamo, le nostre cellule si rigenerano e cresciamo, evolviamo come persone e come musicisti. Per cui ogni volta che torni ad ascoltare quel disco, dopo questi cambiamenti, troverai delle differenze. Noterai cose che prima non avevi notato. Ok, adesso voglio spiegarti come funziona la serie note dal batterista. Ho deciso di suddividere gli appuntamenti prendendo un album da ognuna di quattro grandi macro categorie che sono quelle che hanno influenzato la mia crescita e sono pop, rock, jazz e fusion. Ogni video conterrà l'analisi di un album preso ogni volta da una categoria diversa. Preso un album farò l'analisi, ti spiegherò alcune cose, ti farò notare alcune cose che sono quelle che noto io, per poi scendere ai brani singoli da cui ho tratto le 5 big ideas. Ognuna di queste 5 big ideas le troverai in un pdf che più avanti ti spiegherò come fare per averlo e ti suonerò queste idee una per una. Certo non è la stessa cosa che sentirle suonate dal batterista singolo ma in questo modo isolando solo la batteria potrò farti capire meglio qual è la magia che il batterista ha messo nel singolo brano e nella singola idea che ha scelto di suonare. E allora ti interessa questa serie intitolata note dal batterista ovvero le 5 big drummers ideas che hanno reso imperdibili e unici gli album che hanno fatto la storia della musica? Vorresti vedere e rivedere i video e avere i pdf che contengono le trascrizioni di ognuna delle 5 big drummers ideas? Vorresti avere tutti questi video raccolti in un unico catalogo? E allora ti basterà fare una cosa molto semplice, ti basterà iscriverti al Pocket Drum Booster che è un'area privata totalmente gratuita dove tu potrai trovare questa serie di video e altre centinaia di video sempre gratuiti. Per accedervi ti basterà cliccare sul link che trovi sul testo di questo post ed entrerai in questa area privata che si chiama appunto Pocket Drum Booster che è l'area privata gratuita più grande d'Italia dove troverai centinaia di video oltre a questi molto interessanti per te e per la tua crescita come persona e batterista. I vantaggi di essere iscritto a questa area privata gratuita è che io posso mandarti la notifica via email ogni volta che pubblico un nuovo contenuto senza dover per forza girare per i social youtube facebook e una cosa molto importante è che all'interno di questa area privata c'è una zona commenti dove potremmo commentare insieme il video l'album e potrai anche suggerirmi degli album che vorresti vedere presenti in questa serie ovviamente ce la metterò tutta per accontentarti nei limiti delle mie possibilità ovviamente. Quindi se ritieni che questa serie di video sia interessante per te e anche per qualche tuo amico o collega consigliagli di iscriversi all'area privata Pocket Drum Booster oppure di seguirmi sui social perché questi video saranno presenti sui social per un tempo limitato poi li toglierò. È molto importante per me il tuo sostegno perché in questo modo io posso continuare a creare nuovi contenuti interessanti anche per te. Per il momento è tutto ti lascio con un grande abbraccio e ti anticipo che il primo video della serie sarà dedicato a uno storico album di un batterista. Sto parlando di... Ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Ruggero.